Siamo in compagnia di Simone Loria, l'ultimo arrivato in casa a Cuneo, dopo una trattativa diciamo lampo che si è risolta nelle ultime 24 ore. Simone intanto benvenuto, poi raccontaci appunto questa trattativa, cosa ti ha convinto a venire qui a Cuneo, ricordiamo che tu ti eri già allenato in estate con la squadra? No, io c'è stata una trattativa cortissima, sono stato chiamato a fine della scorsa settimana, mi è stata chiesta la responsabilità, io l'ho data perché comunque ho voglia di giocare, ho voglia di rimettermi in gioco e comunque di poter dare venendo qui a Cuneo una mano sia alla società o ai ragazzi per mettere a disposizione la mia esperienza. Ecco, forse un po' sorpresa, almeno per quelli che erano i Rumors, hai firmato un contratto fino al 2014, quindi di un anno e mezzo. Cosa ti ha convinto del progetto che magari ti ha spiegato dal Presidente Rosso, dalla dirigenza o dal mister? Mi ha convinto il fatto di poter giocare a calcio, la cosa che comunque a me piace più di tutto, la mia passione e il mio lavoro tra virgolette, quindi ho questa possibilità, mi è stata data questa possibilità, c'è la possibilità comunque di far crescere dei ragazzi più giovani di me, e quindi mi fa piacere che comunque la società mi abbia chiamato per aiutarli anche in questo. Ecco, tu da partito ufficiale sei fermo praticamente dalla scorsa stagione, ti sei allenato comunque con continuità, qual è la tua condizione fisica in questo momento, quanto ci vorrà per recuperare un ritmo partita buono? No, ma adesso vediamo, è iniziato ieri, quindi piano piano adesso vediamo, di sicuro non questa settimana, poi il resto lo vedremo di giorno in giorno. Ultima cosa, tu ti sei allenato con la squadra in estate anche lungo, quindi hai avuto modo di conoscere quelli che poi sono adesso i tuoi compagni, secondo te quali potenzialità può avere questa squadra, siccome siamo alla ricerca comunque della salvezza, adesso è un momento anche difficile, secondo te questa squadra può salvarsi, secondo te come hai visto i tuoi compagni in questi giorni di allenamento? Questa squadra ha la potenzialità per salvarsi ed è l'obiettivo che comunque ha da inizio stagione, quindi non perché al dicembre uno era messo meglio in classifica, adesso sei tornato un po' più giù, però comunque con tre punti riesci di nuovo fuori, non vuol dire che cambiano gli obiettivi della stagione, la squadra ha la possibilità di salvarsi anche perché se non avesse la possibilità di salvarsi non sarei venuto qua. Ultimissima cosa, si è parlato in queste ore anche di un tuo possibile utilizzo addirittura davanti alla difesa, tu pensi di poter dare qualcosa anche in questo ruolo o farai il difensore centrale a tutti gli effetti? Di questo non ho parlato con nessuno perché mi sono allenato da ieri, quindi io sono qui a disposizione del mister e poi vediamo, però adesso è prematuro parlare di tutti gli altri discorsi quando ancora non devo giocare, quindi si fanno più avanti. Grazie.